La notizia del parere negativo da parte della soprintendenza al progetto della cabinovia ha colto parecchi di sorpresa, a cominciare dal comitato che da tempo si oppone all'Ovovia, che pertanto attende di conoscere meglio le determinazioni di Palazzo Economo, non fosse altro per aggiungerle al proprio arsenale. Del resto anche gli uffici comunali poco sanno che il parere negativo ci sia a Palazzo Sipario nessuno lo nega e del resto il sindaco non lo avrebbe di fatto affermato pubblicamente a Ring se esso non ci fosse. Perciò anche in comune si attende di conoscere per capire ed eventualmente per preparare la controffensiva. Sul tavolo in ogni caso resta una data, quella del 26 ottobre, giorno in cui dovrebbe partire la conferenza dei servizi, primo passo verso l'attuazione del progetto. Un appuntamento che il comitato vede come fumo negli occhi, già che si configurerebbe come un salto in avanti non di poco conto, spiazzando un po' tutti e spazzando via le attese, ma che, chissà, senza il paracadute rappresentato da una soprintendenza non contraria, potrebbe rivelarsi anche un salto nel vuoto.